Il Movimento 5 Stelle parla di ennesimo cortocircuito amministrativo della maggioranza, si parla di questo contributo ministeriale impiegato due volte dalla Giunta Comunale, è così? Sì, noi nell'ultima conferenza stampa avevamo lanciato un po' una sorta di hashtag paura e delirio in Commissione Finanze, purtroppo si ripete inesorabilmente questa situazione perché parte proprio dalla Commissione Finanze l'analisi di questa variazione di bilancio che è andata in votazione proprio alcuni minuti fa in Consiglio, avendo ad oggetto fondamentalmente l'utilizzo di questi fondi ministeriali per alcuni interventi di efficientamento energetico all'interno degli edifici scolastici e se non fosse che andando un po' a spulciare all'interno delle carte negli atti di qualche mese fa abbiamo verificato come in realtà la stessa richiesta per lo stesso finanziamento fosse stata avanzata già da un altro ufficio per interventi completamente differenti quindi diciamo che uffici che evidentemente non si parlano tra loro e pretendevano appunto di utilizzare lo stesso tipo di contributo per due interventi differenti Voi sostenete che ora questi 210.000 euro rischiano di essere persi dall'amministrazione comunale? Sì perché in realtà quindi abbiamo riscontrato come ci fossero presenti due iter distinti l'uno dall'altro entrambi purtroppo compromessi da una serie di errori amministrativi e quello che comunque dovrebbe essere in realtà finanziato dal fondo cioè quello per l'illuminazione LED all'interno degli impianti scolastici comunque ha un paletto molto stringente che è rappresentato dall'inizio dei lavori entro il 31 dicembre prossimo e pena la decadenza del contributo Grazie a tutti